Come lo facciamo questa mattina Mike Giller? Voglio un volto contrito, con fierezza, lavora su questi occhi, restituisci il vigore e dispiacere. Secondo me avete un aspetto magnifico. Questo è un rapporto della gesta. Sono documenti classificati, segretissimi. Una leggi, leggi, una parola, c'è! Tradimento che nessuno ci disturbi fino a un nuovo ordine. Via Volmeyfer, sei andata a letto con un agente segreto in case! Adolf, perdonami, è stato un momento di debolezza. Io non sono un uomo comune, ma il tuo tradimento, Eva, giunge così inaspettato da risultare insostenibile. Tu sai quanto sono malinconiche le montagne quando il sole tramonta. Un'ombra senza fine ghermisce le vallate e ricopre ogni cosa. Alberi, rocce steccati, tutto viene fagocitato dal buio. Quando è stata l'ultima volta che sei stato a Berthesgaden? Mi hai lasciato lassù, rinchiusa in una gabbia dorata, prigioniera del mio dolore. Forse non ti è chiaro cosa sta succedendo qui. Preferisci spararmi direttamente sul petto oppure in faccia? Mettete qui in ginocchio e guardami negli occhi. Sei pronta? Bene, prima che tu uccida però devo sapere una cosa. Tutto ciò vuole. Pannazione, non è possibile, non è possibile, è tollerabile, è totalmente inaccettabile. Tu avevi me. Io ho risollevato le soldi della Germania. Io ho riattizzato lo spirito bellico del popolo tedesco. Tutto mi appartiene. E nonostante questo, tu mi hai tradito. Presto tu te ne starai lì, riversa sul pavimento con la testa spaccata. Tutti i tuoi pensieri e preoccupazioni voleranno via e si disperderanno nell'aria. Io invece rimarrò qui e non avrò mai pace perché questa domanda continuerà. Continuerà a risuonare nella mia testa, nella mia testa per l'eternità. Mi spiate, mi spiate. Quando sarò pazzo, mi farete ballare su un monociclo come un osso ammaestrato. Guardami, guardami, guardami. Dimmi per te. Non lo so. Dimmelo. Non lo so. Dimmelo, io devo sapere. Fantasticavo sulle tue mani. La notte mi svegliavo tutta sudata pensando che me le stringessi attorno al collo. Tu sei pazza. Forse lo siamo un po' tutti e due. Tu fai ballare la mia signora. Più veloce. Basta. Sarà questa moneta del Rai a decidere il destino della vostra insignificante vita. Sì. 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 Grazie.